salve a tutti amici youtube per mettere un attimo di un grandissimo video questo è il mio primo unboxing che vede come soggetto il microfono trust starts andiamo subito a scoprire cos'è come funziona e quali sono le sue caratteristiche molto ampio molto molto grande il microfono è questo il microfono dotato di un cavalletto di un jack d'oro per favorire la veloce trasmissione dati e guardiamo un po domenici allora microfono ad alta prestazione dotato l'interruttore di disattivazione di audio a base del tripiede e per una riproduzione vocale naturale ed essere ordinaria qualità bene si pronuncia un grande l'ho pagato veramente poco ho pagato 9 euro e 38 spedizione di 2 euro che normalmente ne costa 15 in più ci sono tre anni di garanzia quindi è veramente un buon prodotto che rapporto qualità prezzo ho visto anche da altre persone è veramente ottimo andiamo subito a scarto andiamo di non rompere tutto se no addio ecco qua ecco qua ecco qua se microfono col suo grande tripiedino che poi è abbastanza pensiamo fosse più pesante della verità qua c'è il bottone on off cavo da 2.5 metri veramente è stabile poi non ha giochi o è rigida spera funzioni anche come si presenta il suo del design design leggiamo un po le caratteristiche tecniche cosa dice allora a parte va bene tutte le cose per i figlioli perché non devono mettersi in bocca tutte le piccole parti che ci sono poi c'è anche la guida dell'installazione perché perché non è normale perché ragazzi di installare il microfono non è che ci vuole tanto allora comunque sia io credo sia un ottimo microfono almeno dalle altre persone che l'hanno comprato e naturalmente adesso andiamo subito a provarla ok ragazzi questo è il microfono all'opera e l'ho scelto fra tanti perché ha un ottimo rapporto qualità prezzo l'avevo già tocchiata alla media board e devo dire che non mi ha fatto l'eluso anche perché col suo design accantivante e funzionale è veramente un buon prodotto e soprattutto lo consiglio a tutti i veri che vogliono un altro microfono che non costi troppo ma che abbia delle buone qualità e che sia adatto per registrare video o comunque parlare via chat con skype e robe varie quindi come al solito vi invito a lasciare un bel mi piace condividere il video e iscriverti al mio canale che ci saranno tantissime novità di minecraft e tuttora sto facendo una serie in survival quindi mi raccomando fateci ciò che ho detto e ci vediamo al prossimo video ciao